Ci sono giorni in cui sono talmente malinconica che se non esco andando in giro a zonzo per il quartiere a guardare case e cose orribili, non riesco a trovare altra giustificazione alle lacrime. Fontane di lacrime amare che nemmeno petra, fiumi di tristezza immotivata, cascate di malinconici pensieri, che panorama rassicurante. Allora cammino, mi sento la protagonista della scena madre di un grande film d'autore, di quei film che non vedrà mai nessuno se non dopo la morte del regista e forse nemmeno allora. Cammino fiera e distrutta col mio dolore sulle spalle, la mia solitudine nei fianchi, il mio smarrimento dietro i Ray-Ban e faccio scomparire le inutili comparsi al mio passaggio. Motore partito! Controllo innanzitutto il respiro, innanzitutto perché fumo come un esercito di turchi e ne ho poco. Poi controllo il movimento delle braccia, mai troppo appenzoloni o invidio risulti scimmia e mai troppo rigide o risulti Pinocchio. Controllo di lanciare bene le gambe ad ogni passo ma di non incrociare né allontanare troppo le ginocchia perché se vanno fuori asse rispetto alle anche risulti Kate Moss ubriaca che tenta di camminare in linea davanti alle guardie. Poi controllo che i piedi poggino correttamente tacco punta, mai sui lati e mai a papera. Infine controllo il mento ricordando come la pensa Oscar Wilde. Metà della riuscita di una donna è nel mento e quest'anno si porta alto. Azione! Cammino non preoccupandomi delle lacrime che colano da dietro le lenti. Non le noterà nessuno e nemmeno il moccio dal naso. Cammino cercando di stare in piena luce in mezzo al verde sotto gli alberi. Cammino dritta e controllata verso una meta chiara. Sono decisa, sicura. La camminata tradisce il pensiero se ne sia uno e quando cammino malinconica il pensiero e la meta sono inequivocabili. Statemi lontani. Cammino con un libro in mano, poesie, perché la malinconia ha bisogno di poesia per sentirsi compresa. In questi giorni cammino notando i baci sui capelli, gli avambracci incrociati, le dita tra le mani, le mani sui fianchi, le braccia al collo, le carezze al viso che si piega sulla mano che lo incornicia, gli occhi colmi, i sorrisi avidi e il colore della pelle delle persone innamorate e che non è come il mio. Vado al bar della signora Adriana con una raccolta di poesie d'amore. Voglio leggerle al tavolino all'angolo, quello in pieno sole. Prenderò un prosecco, la signora Adriana mi darà delle arachidi aperte la settimana scorsa. Io la ringrazierò di cuore e le mangerò tutte. In questi giorni di camminate malinconicamente fiere, fiere di chissà cosa poi, penso spesso al mio cuore. Cerco di ricordare che forma aveva quando iniziava ad amare, quando si riempiva di sangue eccitato dalle farfalle nello stomaco, dai pensieri inconsistenti e costanti, dai sogni concessi e concreti. Cerco di ricordare che BPM aveva quando giovane e inesperto batteva solo per l'amore, per quella sconosciuta forma di fiducia che sa di bucato pulito, di zucchero caramellato che ancora scoppietta su una torta appena sfornata, di sabbia calda sotto i piedi al tramonto e di cuscini sudati sotto i corpi nudi. Cerco di ricordare che cosa si prova a risvegliarsi insieme, a conoscere gli odori, a camuffare gli imbarazzi, a immaginare i difetti, ad abbuffarsi dei pregi e a fregarsene di uno e dell'altro. Tanto l'amore corregge ogni tiro. Cerco di ricordare quanto è orgasmico il fidarsi. Dall'altro lato del bar, anche loro sotto il sole, ci sono Franco, Laura, Mario e Antonio. Antonio si schiarisce la voce ma non parla mai. Laura sta raccontando che fare l'amore sul pianoforte è il suo perché. Franco sta chiedendo a Mario perché mai vuole un'altra donna ora che è riuscito a liberarsi della moglie che è morta un mese fa. E Mario cerca di rispondere ma se la prende con Antonio che girando il cucchiaino intorno al bordo della tazzina fa rumore e lo disturba. Perché mi sento solo? Vi ho fatto l'ennesima confessione della mia vita con la storia del pianoforte ma un'altra è che io vorrei un uomo per passeggiare insieme, per andare a cena fuori, per farci compagnia. Tutte storie. Io non ho sposato mia moglie perché l'amavo ma perché mi piaceva fisicamente. Solo così può funzionare il matrimonio. Antonio si schiarisce la voce e tace. Intanto la signora Adriana ha raggiunto il tavolo dei suoi amici Lucertola. Credo che il più giovane sia Antonio, non ne ha più di settanta. E dice io ragazzi vorrei un uomo che mi volesse bene. Tranne Mario che è rude come una paglietta, annoiscono tutti. Antonio fa addirittura un verso che somiglia a un sì. Richiudo il libro di poesie. Davanti a una scena simile mi sembra decisamente più fuori luogo delle arachidi ammusciate. E giro una sigaretta. La fumo mentre le sbarre della sedia mi entrano nelle cosce. Ho la minigonna e non c'è abbastanza stoffa per coprire la carne. Mi metto a piangere ma non credo sia colpa della sedia. Poi mi viene in mente la sua torta ai mirtilli congelato alla crema che nessuno vuole. Le tonnellate di pagine di diari scritti negli anni, traboccanti di domande esistenziali e di sicure affermazioni. Io amo. Mi viene in mente l'odore dei suoi capelli, i nei sulle spalle, le caviglie ossute, le labbra sottili che non sanno di sorridere mentre dormono. Il rumore melodico che fa il disco continuando a girare anche se la puntina si è alzata. Il verde fuori dalla finestra coi vetri puliti. Io non ho mai i vetri puliti. La luce nel bagno che è grande quanto tutta casa mia. La carta igienica sulla vasca, le ciabatte sotto la biancheria e il grande specchio nel quale mi incrocio. Anche le mie labbra sorridono. La luce filtrata dalla serranda semichiusa mi scurisce gli occhi che sembrano vulcani senza fondo. Ho la pelle calda, le spalle profumate e la pancia morbida. Faccio la pipì e rimango qualche minuto a godere di un silenzio sconosciuto e a guardare i pulviscoli di polvere nei raggi di luce. Seduta in un bagno che sembra la sala del trono. Mi viene in mente Balzac. Il privilegio di sentirsi dovunque a casa propria appartiene solo ai re, alle prostitute e ai ladri. E sorrido. Mi dico che la monarchia è crollata, che non ho mai rubato nemmeno un pezzo di pane e che quindi non rimangono molte possibilità. Cerco un foglio, trovo la busta di una bolletta e ci scrivo sopra. Mi lavo i denti, scopro che una casa che non conosco ha inghiottito la mia maglietta e allora mi infilo la giacca di pelle sulla pelle e prima di congedarmi dall'accogliente bagno annuso un asciugamano. Di norma sanno di sudore o peggio di umidità e rovinano tutta la fantasia leccita che una donna si racconta annusando l'asciugamano dell'uomo con cui ha passato la notte. Ma questo sa di lui. Fermo il disco, socchiudo la finestra, raccolgo il mio tabacco, una coperta blu dal tappeto e con quella lo copro. Gli sfioro una ciocca e penso che visto da quassù sembra un'onda. Prendo un respiro, lo trattengo e penso che vorrei dirglielo sotto voce mentre dorme che mi ricorda il rumore del mare. Chiudo la porta delicatamente, scendo le scale scalza e mi calzo solo all'uscita dal cancelletto sulla strada quando il castello ormai è chiuso alle mie spalle. Non so dove sono, non so come tornare a casa, non so da quante ore sono sveglia. Il corpo però è leggero ed energico, appagato e affamato. Vedo un bar, mi c'infilo. Ha un orrendo arredamento con rimandi agli anni 90, attori, calciatori, marchi di bibite, di macchine, di programmi televisivi. Il barista si chiama Federico, ha i capelli rossi e crede davvero che il suo bar sia un bel bar. Poi gentilmente si prodiga per trovare un mezzo che mi porta in città, mentre io divoro due croissant al cioccolato, un cappuccino, un caffè e un enorme bicchiere d'acqua. Mi chiede come sono finita in un posto così sperduto arrivando dalla capitale. Gli dico una bugia, mi fa lo scontrino e vado a prendere l'autobus che mi ha indicato. Torna a trovarmi se ricapiti da queste parti, mi farà piacere. Se ricapitassi da queste parti, credimi, farà piacere a me. La strada è infinita. Le vecchie sull'autobus mi guardano la treccia spettinata e il sorriso stampato. So che si chiedono se a quell'ora del mattino sto uscendo o rientrando a casa. Io gli guardo i capelli viola e le dentiere incollate e penso che vorrei andare con loro ovunque stiano andando, probabilmente al cimitero a trovare e maledire il marito morto, e chiedere. Voi sapete se ci si può amare per un'ora soltanto stando insieme e poi continuare a farlo anche se distanti e per tutto il resto del tempo. Quanto ossigeno puoi risparmiare trattenendo un pensiero? E dopo, quanta strada puoi fare con quel fiato e a quale scopo? È vero che non si ama per amare qualcuno ma per amare se stessi? È vero che a venti come a settant'anni si cerca solo qualcuno con cui fare l'amore su un pianoforte, con cui fare una passeggiata, una cena, qualcuno che ci voglia bene. Faccio il giro largo per tornare a casa. Passo davanti alle lucertole che vedendo i tatuaggi sulle gambe smettono di parlare. La signora Adriana mi saluta con affetto però e i suoi amici, che io saluto con lo stesso affetto anche se non li conosco, sono costretti a pensare che nonostante i tatuaggi una donna può essere educata e ricambiano. Antonio sussurra un salve, gli sorrido, lui si imbarazza e riprende a girare il cucchiaino sul bordo della tazzina. Ma nessuno lo sgrida questa volta, sono tutti intenti a guardarmi andare via di spalle con una camminata che non lascia scampo, o cado o mi salvo. Passo sotto i portici, davanti alla lavanderia coi rumori che rimbombano nelle arcate, accanto alla ferramenta, vicino all'edicola, sopra il prato incolto dietro le panchine. A volte faccio qualche metro di strada a occhi chiusi, immaginandosi alla riva. A destra la risacca fa comparire conchiglie e cocci di bottiglia levigati, a sinistra la spiaggia non ha fine, non ho idea di che cosa ci sia dietro. So solo che io vado avanti, verso sud, percorrendo tutto il tempo che resta al ritmo con quei battiti per minuto che produce il mio cuore, immerso da solo in un sogno ideale. E stop!